Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e si deciderà quale debba essere il futuro dell'Unione europea, che a noi a volte sembra qualcosa di distante, ma si tratta invece di questioni che riguardano da vicino la nostra vita ogni giorno. In appena un anno e mezzo di governo in Italia siamo riusciti a affermare un declino che sembrava inarrestabile, a smentire i profeti di sventura, a ridare fiducia e credibilità alla nostra nazione. Certo, ovviamente c'è ancora moltissimo da fare, però noi siamo fieri dei dati sull'occupazione che sale, della crescita economica superiore alla media europea, del fatto di aver dedicato ogni singolo euro, ogni risorsa disponibile ai salari, al sostegno del potere d'acquisto delle famiglie e alla sanità. Vogliamo portare in Europa lo stesso cambiamento che abbiamo iniziato qui in Italia. Vogliamo un'Europa dove siano i cittadini a decidere e non oscuri burocrati o grandi lobby, che faccia quindi gli interessi dei cittadini e dei popoli europei tutto quello che non ha saputo fare finora. difendere i confini dall'immigrazione illegale di massa, tutelare l'economia reale e i posti di lavoro, contrastare la concorrenza sleale che danneggia le nostre imprese, che danneggia i nostri prodotti, difendere veramente la natura ma lasciando da parte le dannose derive ideologiche e sostenere le famiglie, sostenere la natalità, cosa che non ha mai saputo e voluto fare finora. Sabato e domenica siete voi a decidere del vostro futuro e siete voi che dovete decidere quanto l'Italia possa e debba essere forte in Europa, forte per difendere i suoi interessi nazionali, forte per portare pragmatismo, serietà nelle scelte dell'Unione Europea che sta perdendo il suo ruolo nel mondo. Io credo che si debba votare guardando all'interesse nazionale e so anche quale sia il partito che da sempre su tutto difende l'interesse nazionale italiano.